Per non farli ipocrite voglio dire due cose. Uno, io sono convinto, l'80% della mia vita di piccolo imprenditore della mia economia, ma dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, non dipende né da Polverini, né del Parlamento, né del Governo di Roma. Ormai dipende da Barroso, da Banron Pui, da Schäuble, da persone che noi non votiamo. Se devo votare veramente, voglio votare allora per Berlino. Non voglio partecipare a elezioni finte, che non eleggono niente che conta per la mia vita. Secondo, a me fa molto piacere, lo dico da ex politico, non ho il riflesso di difesa della categoria, però a un giornalista che chiede a Fiorito, sei un ladro? Io fossi stato Fiorito, gli avrei risposto, e tu sei un cretino. Cioè, io non capisco come i giornalisti possano. Aspetta, fammi difendere Nicola Porro, c'era la domanda era. Lei ha rubato, insomma, perché sennò uno va sempre intorno e non fa male. I presenti sono anche i meno disdicevoli e i meno antipatici. Ma un corpo giornalistico che per 50 anni, chiedo scusa per la fascia protetta, ha leccato il sedere ad Andreotti e all'andreottismo, alla casta e all'Italia del debito pubblico, si sveglia una mattina e scopre Fiorito. Ma io non lo so, c'è un po' di serietà? Ho continuato a parlare dei partiti cattivi e del sistema politico. Ma dove stanno questi partiti cattivi? Sono marmellata, c'è Batman, Pippo, Pluto, Paperino, il terzo palo di Casiglia. Ma conta molto più il partito del Corriere della Sera, il partito di Repubblica, il partito della Stampa, il partito del Sole 24 Ore. Però poi chi deve prendere le decisioni legislative e politiche sono i politici. Ma non mi direte che il potere sono fare opinione. Ma no, ma no, i giornalisti per 50 anni dovevano dire cosa succedeva in questo paese. Non l'avete detto che oggi siate, che oggi siate. Anche i grandi gruppi che tu hai citato purtroppo non sono così forti come tu pensi che fossero. No, ho capito, però quando vedo dei direttori con i loro ciglioni che hanno 60 anni e dicono che schife i politici, ma dove hanno vissuto? Su Venere. Ma in che pianeta stavano? Andavano a pigliare le mozzarella da Demita e andavano da Bettino. Cioè vogliamo ricominciare a parlare di cose serie o continuiamo a dirci le frescacce sui politici Scattini e giornalistiche. Sei che è innamorato del suo ex compagno di... Adesso la notizia da Minegrica, però aspetta, raddoppio perché vedevo una Napoleoni fare molto sì con la testa mentre parlava. Negri, sto scoprendo un Negri un po' grillino, mi verrebbe da dire. No, no, no. Non lo so. Negri è per lo sciopero del voto, io voglio votare a delle elezioni vere. Voglio votare per Berlino e per Bruxelles, a me di votare per le cose che non contano. Non me ne frega niente di andare. Anzi, lancerò lo sciopero attivo del voto. perché non ha senso dopo il fiscal compact non ha senso sì sì non ha senso andare a votare